Ok, ho cominciato a registrare, si Ok, oddio Troppo bello quella macchina fotografica Ciao a tutti a tutti ragazzi Bentornati in questo nuovo video, guardate Tadadadam Sto registrando con la macchina fotografica Questo è il primo vlogmas Che durerà una settimana e vi faccio così Perché non vi posso fare vlog io Con questa macchina fotografica Ok, allora andiamo alle domande Volevo fare 20 domande su Natale Adesso andiamo subito, le faccio subito Perché devo andare a danza E oltre fino al 3% Allora, la prima domanda Per i vostri doni usate Carta da pacchi o borsina da regalo? Allora, io sinceramente Per, diciamo, regalare Mudo tutte e due Perché prima incasso i regali E poi rimetto nella busta Albero vero o artificiale? Io preferisco quello artificiale Quando montate l'albero? Allora, io quest'anno non ho montato I... Fine novembre Quindi già molto presto Non l'8 dicembre Anche se l'anno scorso l'ho fatto l'8 dicembre E quando lo sono montate Io solitamente dopo la Befana O dopo la Befana Il più bel regalo che avete ricevuto da bambina? Allora, il più bel regalo per me Era quando ero più piccola Che aveva un altro ciccio bello La bicicletta Il pallone Tante cose E poi la casa di Barbie La casa di Malibu La persona a cui è più difficile fare un regalo Allora Mio papà Perché non so mai che regalargli Quindi mio papà La persona più facile da accontentare Penso Mia mamma Perché mia mamma I regali li accetta tutti Anche mio papà li accetta Però Cioè voglio proprio Andarci vicino a quello che gli piace Cioè non voglio solamente che mi dice grazie Così voglio proprio che lo usa Biglietti d'auguri per posto Guarda elettronica via mail Io preferisco messaggi su Whatsapp Quindi elettronica Film di Natale preferito Allora A me piace tantissimo Nightmare Before Christmas E niente Questo è il mio film preferito Quando cominciate a fare shopping Natalizio Dipende Perché già mio nonno mi ha comprato il regalo Quindi Già da molto mi ha comprato il regalo Quindi Dipende Avete mai riciclato un regalo di Natale? No Mai Il piatto natalizio Perché secondo me I regali comunque non si rilegalano O non si riprendono una volta dati Avete mai riciclato Il piatto natalizio che preferite? Allora Io a Natale Il pandoro Il pandoro Lucine sull'albero Bianche colorate Allora Io sinceramente nella stanza le preferisco bianche Però sull'albero Dipende Quando tipo l'albero è tutto con le palline colorate Ovviamente colorato Quando invece Tutto che ne so Tipo Rosa Metto le luci ne bianche L'anziano è natalizia preferita Santa Temi Di Ariana Grande All I want for Christmas Di Non mi ricordo A Natale Preferite viaggiare o stare a casa? Allora Io preferirei viaggiare Però io sto sempre a casa Cioè non è che sto a casa Vado da mia zia e faccio il Natale Che abita Mezz'oretta Da Da Dove abito io In cima all'albero Preferito Preferite? Angelo Fiocco Stella Io la Stella Aprite regali La sera della vigilia O la mattina di Natale Allora Io di so Quando ero piccola Le aprivo di sera Quando ero piccolissima Poi tipo Ho iniziato ad aprirle La mattina La mattina Si A volte le aprivo anche prima Perché Tranne quello che mi ha dato mia nonna Che appunto c'è la casa sua E non lo sto aprendo prima A volte le aprivo prima 18 La cosa che mi fastidisce di più In questo periodo dell'anno Che Vabbè Diciamo che mi fastidisce La cosa che Diciamo Molta gente si lamenta Praticamente Perché Diciamo Non possono comprare Cioè Non possono spendere più di tanto Per i regali Ma poi Fanno dei regali Che sono più costosi Di una Lamborghini Per dirvi Quindi Non mi piace Punto la gente che si lamenta E la gente che Diciamo La gente che Appunto Fa queste polemiche Cosa vorresti Quest'anno per Natale Io volevo La macchina fotografica Ma già ce l'ho Appunto Per la data Mia mamma ieri E poi Veramente Quest'anno per Natale Volevo Le softbox La ring light Oppure Semplicemente Avevo chiesto Ah il profumo signorina Che mi piaceva molto Però Colori tradizionali Rosso e verde Altri colori Allora L'albero A me piace molto No Rosso e verde No Ehm Ehm